Quando sei fuori, cioè sei tutta presa dal correre, da fare cose, questo, questo, allora non ti fermi un attimo a godere veramente di quelle che sono, cioè le cose naturali proprio, cioè lo stare bene solo alla visione di un tramonto, di un chiaro di luna sul mare, sono obiettivi, 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 come se la vita fosse fatta solo da raggiungere quell'obiettivo, no? Cioè fermati un attimo e godi veramente di poche cose, poche cose semplici che non hanno bisogno di niente. Grazie Grazie Grazie